Eccomi arrivata alla Scanteras, siamo alla Spalmas, qui è un pochino meno caldo rispetto al sur del paese però oggi si sta bene, da noi c'era il vento e invece qui è una bellissima giornata alle volte basta spostarsi di 50 km sull'isola per avere un clima completamente diverso e oggi è una giornata particolare perché lavorerò qui con le mie foto per un paio di aziende ma nel frattempo vado a scoprire, sono arrivata prima per scoprire un po' con voi la città, la Scanteras ma anche forse il centro, intanto sono andata a scovare in un mercatino Youssef che è un berbero viene al sud del Marocco e porta qui oggetti antichi della tradizione berbera e seguitemi perché fra un po' metterò il suo video che veramente ha delle cose fantastiche io non avevo mai visto nonostante lavoro con i gioielli e ammetto di essere ignorante nei gioielli berberi ma ha delle cose meravigliose e una ne porta il dito, guardate che meraviglia che è attacca